Ciao, sono Marina, sono un'accompagnatrice turistica e una travel designer. Sono nata a Catania e vivo a Ragalna, città dei sapori e dei colori etnei. Mi piace molto viaggiare ed esplorare luoghi poco frequentati oggi, ma che un tempo erano centri di grana importanza. Ecco dove nasce la mia curiosità. La mia passione è un mix di tradizioni popolari, pasta di piatti culinari, città di lingua, miniminaglie e pasta di tarantella siciliana. Esperienza è indirizzata, rivolta a chi, come me, è affassionato di tradizioni popolari. Infatti io, che sarò l'accompagnatore, ti aiuterò a scoprire la storia di Ragalna di una volta, fatta di riti, relazioni e comunità per diventare nuovi abitanti di Ragalna. È rivolta anche a tutti gli affassionati di cucina e agli amanti del chilometro zero, perché le massaie di Ragalna in cucina vi insegneranno a preparare un piatto tipico etneo che poi naturalmente mangeremo insieme. Imparerete quindi una nuova ricetta che porterete poi a casa e proverete a rifarla. Vuoi vivere con me questa esperienza? Sarà memorabile, unica e ripetibile. Come tutte le mie storie, io ti aspetto a Ragalna, città dei sapori e dei colori etnei. Welcome to Ragalna! Ciao!